Cala il sipario sull'ottantesima mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro a povere creature del regista greco Lantimos d'Argento a Io Capitano di Matteo Garrone, coprodotto da Rai. A Venezia si è chiusa l'ottantesima edizione della mostra del cinema, gran finale con l'assegnazione del Leone d'Oro a povere creature del regista greco Lantimos. Allora Lido per noi c'è l'inviata, Virginia Volpe, Virginia a te. Cala il sipario sull'ottantesima edizione della mostra del cinema di Venezia, un'edizione secondo il presidente di giuria Chazelle caratterizzata da film diversissimi ma belli che hanno generato discussioni e dibattiti proprio all'interno della giuria. L'Italia festeggia con i premi a Io Capitano di Matteo Garrone, coprodotto da Rai Cinema. La soddisfazione anche del ministro della cultura Gennaro San Giuliano, ma ripercorriamo i momenti di ieri sera della premiazione nel servizio che abbiamo realizzato e poi la linea può tornare allo studio. Era il favorito della vigilia e si è confermato, povere creature del regista greco Lantimos è il leone d'oro di questa ottantesima edizione della mostra del cinema. Gran premio della giuria Il male non esiste del giapponese Amaguchi, premio per la regia a Matteo Garrone con Io Capitano, nel cast di questo film il giovane attore esordiente premio Marcello Mastroianni. Ho avuto la fortuna di avere Seduo, che ha interpretato in una maniera così pura. Coppa Volpi, miglioratrice a Kaylee Spani, protagonista di Priscilla di Sofia Coppola, migliorattore Peter Sasgard dal film Memory di Michel Franco. E c'è tante Italia anche nella sezione Orizzonti, miglioratrice Margarita Rosa di Francisco, protagonista di El Paraiso di Enrico Maria Artale. Premio speciale ad Alan Parroni per il film Una sterminata domenica. Premio degli spettatori a felicità di Michaela Ramazzotti, molto emozionata. Io questo premio lo dedico a tutti coloro che stanno attraversando momenti difficili, delicati, di infelicità. Grazie. Grazie.